Ciao a tutti da Piera Libri Bruxelles, siamo in Tren Libreria e oggi vi proporremo tre libri per l'estate. Il primo, autore italiano, Marco Cassardo, Eravamo Immortali. Libro appena uscito, libro a taglio storico, racconta la storia di un'amicizia che si dipane in 60 anni di storia italiana dal secondo dopoguerra. In poi, un libro che prende e che è adatto a tutti coloro che vogliono ripercorrere un po' quegli anni. Il secondo libro invece siamo più sul noir, Vite Bruciati di Dominique Manotti, scrittrice francese, sindacalista, scrive sempre noir a sfondo sociologico-finanziario. Molto particolare, ha uno stile che richiama un po' Montalban anni 80. Mentre invece il terzo e ultimo ripescaggio, Manuel Puig, Il bacio della donna ragno. Siamo in Sud America, scrittore argentino, due figure che vengono rinchiusi in prigione, che si ritrovano vicini di Cella, iniziano a parlare tra di loro e pian piano all'interno del libro si scopre che forse non sono lì per caso. Quindi è un taglio un po' di un thriller. A voi, buon'estate! Grazie!